Siamo a bordo di un traghetto della Busy Ferries, ci siamo imbarcati a Port Hardy sull'isola di Vancouver e sbarcheremo a Prince Rupert nel nord della British Columbia. In 16 ore risaliremo lo spettacolare Inside Passage, un canale compreso tra la costa continentale e la miriade di isole disabitate che la fronteggiano. Qui lo sguardo si perde sull'immensità della foresta vergine. Se viaggiate in macchina questo è il modo più rapido per raggiungere il nord della British Columbia da Vancouver. Altrimenti se volete arrivare a Prince Rupert col vostro mezzo dovrete fare 3000 chilometri su strada. Per questo però mettete in conto quattro giorni di viaggio e una quantità imprecisata di carburante.